Ciao a tutti, siamo collegati dalla Meridiana con Carmelo Mastri, portiere della squadra dei Greenhouse. Questa giornata di ritorno dalla pausa natalizia ha creato qualche attenzione nel vostro scontro con AXI Club. Ce ne vuoi parlare? Sì, una partita che è cominciata male per noi, perché penso che ancora eravamo con la cena del Natale nella pancia. Niente, alla partita siamo andati subito in svantaggio, poi abbiamo pareggiato, siamo rimasti un po' così, in pareggio. Nel secondo tempo c'è stata una espressione del nostro difensore. Niente, poi siamo passati in vantaggio e niente, alla partita poi abbiamo sofferto tutti gli ultimi dieci minuti, perché essendo un uomo in meno hanno attaccato tutto la partita. Niente, stiamo vincendo, è la quarta vittoria consecutiva, speriamo di andare così. E adesso magari le punzioni sono determinate dal fatto che la lotta ai punti si fa un po' spiegata. Sì, siamo tante squadre messe in pochi punti, perciò tutti vogliono vincere. Noi stiamo andando bene, dai. Ma si spera che le prossime saranno più calme? Sì, speriamo. La nostra è stata una partita così, c'è stato un po' di nervosismo, speriamo che nelle prossime partite non ci sia questo nervosismo. Ce l'auguriamo tutti, grazie, ciao a tutti.